Ma in realtà tutti i tipi di controllo alla fine convergono in quello che è più importante, il controllo mentale. Il controllo mentale, come abbiamo già visto, consiste nell'uniformare la mente delle persone in modo che queste possano essere controllate da un ipotetico regime ideale che ne stiamo pensando. Il controllo politico fa la stessa cosa, deforma la realtà un passo alla volta, la realtà cambia la nostra percezione della realtà con piccoli passi in modo che i controllati non se ne accordano. E poi c'è la sorveglianza, la sorveglianza è l'altra parte del controllo, perché se tutti questi tre elementi sono l'output del controllo, il controllo ha un input. La sorveglianza. La sorveglianza è un elemento indispensabile, abbiamo detto, serve per acquisire l'informazione indispensabile a capire se i controllati pensano, effettuano delle scelte in linea o meno con il regime. La pratica più comune è istituire un panottico, creando sull'incertezza di essere sorvegliati un sintomo di controllo sui controllati. Ovviamente noi vediamo questo controllo dal punto di vista ideale. Controllo mentale. Come funziona il nostro cervello? Secondo alcune teorie neurolinguistiche, nel nostro cervello ci sono diversi concetti che qui ho rappresentato con delle icone e delle figure, che sono collegati in vari modi. Questi concetti e i loro collegamenti costituiscono una mappa mentale. La mappa mentale ci consente di codificare e decodificare il mondo sulla base di queste informazioni che sono nel nostro cervello. Ma queste informazioni, a loro volta, sono gestite da parti diverse del cervello. La parte più centrale del cervello è la parte meno intelligente, che si occupa del funzionamento fisico del corpo, fino via via agli strati superiori, che hanno diversi tipi di intelligenza, fino ad arrivare alla corteccia, che è la parte più intelligente. Poi ci sono altre suddivisioni della parte destra e la parte sinistra del cervello, ma che qui non affronteremo perché non stiamo parlando di cervello, insomma. Ma parliamo di queste. Le famose icone che abbiamo visto prima, ovvero i concetti. Ogni concetto, oltre che essere in quella mappa di prima, è su un punto del cervello. Il senso di morte, il pericolo imminente che ho rappresentato con una bomba, si trova nella parte centrale del cervello, cioè quella meno intelligente, la parte emotiva. Le altre cose vanno via via, sempre più in alto. Ma vedete che c'è un'icona fuori che mi sono inventato. Un pericolo lento che avanza un po' alla volta. Siccome noi alla fine proveniamo dalle caverne, ma ci siamo sviluppati, non abbiamo mai avuto a che fare con questo tipo di pericolo, perché non esiste in natura. È qualcosa che si evolve un po' alla volta, che non lascia traccia. È un tipo di pericolo subdolo, che esiste e non esiste. O noi non riusciamo a codificare, se non stiamo attenti. E infatti si trova esattamente fuori dal nostro cervello. I cambiamenti lenti, progressivi e subdoli. Parliamo ora di paura, ma la paura come concetto è generico. La paura è una cosa che è nella parte più profonda del cervello. Perché? Perché serve, per esempio, se ci troviamo davanti a un leone, scappiamo. Non è che restiamo a fare un ragionamento intelligente sul trovare il modo di fuggire. Scappiamo e basta. Ma noi parliamo di un tipico esempio di paura, di una situazione ben precisa. Nel nostro cervello c'è una parte che si occupa di gestire la paura. Questa parte si può allenare come un muscolo. Se noi la alleniamo troppo, con degli impulsi fasulli, con delle finte paure, oppure gli facciamo vedere che tutto è paura, ogni cosa per noi sarà spaventosa. Ovviamente, quando la paura non è comprensibile, quando noi non riusciamo a capire cosa ci spaventa, il sistema va in crash. Perché non c'è più un riferimento sulla mappa. Quindi arrivi un riferimento e... ansia, paranoia. Questo è il tipo di paura che viene utilizzata. Spaventa una persona, demoralizzala, e tirerai giù le sue difese. Come tirare giù il firewall del sistema. Ma di cosa abbiamo paura? Che cos'è la sicurezza? Anzi, l'insicurezza. Beh, secondo i sondaggi fatti a Roma, gli atti criminali rappresentano solo il 18% delle nostre paure. Il resto, sono tutte cose, la cosiddetta insicurezza, sono cose non criminali, legate alla gestione del traffico. La gente che non rispetta le regole del traffico. E quindi, noi abbiamo paura di cosa? Di quel 18%? Ma in realtà, temiamo il 100%? C'è qualcosa che non torna. Parliamo ora di grande fratello. Il grande fratello non è una persona. Noi affronteremo il grande fratello dal punto di vista concettuale. Legandoci naturalmente al grande fratello rappresentato da George Orwell, non dalla trasmissione grande fratello. Quello non ci interessa. Il grande fratello è colui che ti osserva, colui che controlla il capo del partito. Non esiste, esiste, e chi può dirlo? Comunque adesso vedremo bene che cosa intendiamo come grande fratello. Per spiegare che cos'è il grande fratello potrei usare una dinamica molto semplice. Un'informazione che non crea alcun tipo di allarmismo ha un'attenzione bassa. Un'informazione con pericolo di morte e allarmismo ha un'attenzione molto più alta. Questo è dovuto per come è fatto il nostro cervello, perché le informazioni che creano allarmismo arrivano prima. Se qui, dove io le informazioni filtro, perché la gente lega di più il mio giornale, per esempio, le informazioni di paura, quello che percepisce la paura del nostro cervello si allenerà e penserà che il nostro mondo sia pericoloso e spaventoso. Se alla paura sommo qualcosa, ottengo denaro. Formula inversa. L'elisir di lunga vita? L'anti-ansiolitico? Una pistola? Meglio di no. C'è chi ha pensato alla videosorveglianza? Una cosa che proprio non c'entra a nulla. Guardare non ti difenderà certo. Però, questa è una cosa che può accadere senza che ci sia un complotto. Non è necessario. Non c'è complotto. Se ci fosse un complotto ci sarebbe questa dinamica. Qualcuno che però tenere più attenzione perché il cervello è fatto in un certo modo controlla le informazioni in modo che tu credi che sia spaventato. a questo punto ti vende l'elisir di lunga vita. Ovviamente questa è una teoria di complotto. È un esempio. Ma il grande fratello è una persona? È un oggetto? È un gruppo? È un complotto? No. Non necessariamente. Esistono tante cose. Questa è una cosa che ho fatto un esempio che potrebbe essere il tassello di un puzzle. Ci sono tanti tasselli di puzzle. Ognuno collegato in un modo. Non è detto che ci sia un'unica dinamica che crea il grande fratello. non è detto che ci sia una persona che crea il grande fratello. Non è detto che quello che l'elemento che è puzzle del grande fratello sia creato da una persona sola magari da un insieme di concomitanze. Tutti i tasselli di questo puzzle assieme sono il grande fratello. È l'immagine del puzzle. Sono tante cose che sono montate. Perché? Perché c'è tanta gente. Ci sono tante situazioni. Però tutte le situazioni che convergono verso il grande fratello sono il grande fratello. Il grande fratello input output lo vediamo da un punto di vista concettuale. Questo è il grande fratello. Acquisisce le informazioni dai sistemi di videosorveglianza dai sensori dalle intercettazioni da quello che volete insomma ci spia concettualmente. Acquisisce informazioni dalla rete di comunicazione internet telefonica quello che è. Attraverso la censura controlla l'informazione e qui avviene la manipolazione mentale la nostra reazione torna indietro come un loop e noi restiamo controllati in base a quello che è il grande fratello. Ecco da dove viene input output grande fratello perché se esistesse un grande fratello una persona un partito un insieme di persone un insieme di partito o qualche cosa altro di qualsiasi natura potrebbe funzionare per esempio con questo sistema nella società dell'informazione quindi manipolazione reazione input output adesso introduciamo la sorveglianza per introdurre bene la sorveglianza bisogna introdurre un concetto che è abbastanza vecchio ed è il concetto panopticon panopticon è un carcere disegnato nel 1791 da Jeremy Bentham è costituito in questo modo i carcerati si trovano nelle celle che sono ai lati completamente visibili da una torre che si trova al centro dove al centro si pone l'osservatore c'è un gioco di specchi che impedisce ai carcerati di vedere se sono sorvegliati o no attraverso l'incertezza di essere sorvegliati si crea una soggezione perché? perché c'è quel tipo di pericolo che abbiamo visto prima quindi il nostro cervello non sa come reagire e quindi si crea un nuovo modo di controllare le persone nuovo modo stiamo parlando del 1700 e quindi questo discorso qui che poi è anche stato creato questa è la foto di un panopticon effettivamente è un carcere e lo possiamo affrontare da un punto di vista concettuale per esempio potremmo mettere il grande fratello l'osservatore al centro della torre ma possiamo anche considerare che se al centro della torre c'è qualcuno che è l'unica nostra fonte di informazioni i carcerati non possono comunicare tra di loro hanno un'unica fonte ahia sono andato avanti di due slide si è stato definito un nuovo modo per ottenere potere mentale sulla mente è un carcere ideale è un'idea qualcuno l'ha anche costruito ce ne sono dei relitti in giro e comunque questa è la struttura del panopticon panopticon è un sistema di controllo fisico per ottenere controllo mentale attraverso la strumentalizzazione della paura di essere sorvegliati da chi si mette qui che prende una situazione di superiorità e quindi ti osserva allora tu hai la paura di essere sorvegliato da chi si trova al centro della torre parleremo ora di video sorveglianza che è la cosa che ci interessa di più nelle aree video sorvegliate per legge in quasi tutti i casi deve esserci un cartello di video sorveglianza di informativa anche secondo la normativa 9546C che purtroppo prende validità anche in Italia nelle aree video sorvegliate con sistemi collegati alla polizia deve esserci questo tra l'altro lo Stato sta giocando molto in questo periodo a pararsi le chiappe su questa cosa perché sa che c'è qualcosa che non va infatti la maggior parte delle volte questo cartello non c'è e siamo di fronte a questo problema ricordate questa icona il pericolo subdolo che è attorno a noi un po' alla volta quindi noi non abbiamo idea di quanto siamo video sorvegliati non abbiamo idea di dove siano le telecamere non sappiamo quanto grande è il problema parliamo di ABC hardware urbano la classica telecamera che tutti conoscono è un modello di telecamera ma ci sono altri modelli di telecamera come per esempio il modello DOM che è una cupolina queste cupoline sono telecamere che vedono a 360 gradi dentro cosa c'è? c'è montato un sistema meccanico che le fa ruotare a 360 gradi e c'è la telecamera classica dentro qui si vede da vicino solo che purtroppo l'immagine è un po' sfigata e non si vede bene ma comunque c'è una telecamera dentro poi ci sono le antenne che servono per comunicare il segnale una direzionale e l'altra unidirezionale vediamo come sono fatte dentro qui si vede meglio c'è una telecamera all'interno elettronica classico parallelepipedo con l'obiettivo ormai integrato è un sistema meccanico che la fa muovere dall'interno questo è un esempio pratico di telecamera con la sua antenna sopra come si fa a vedere se una telecamera ha il visore notturno? basta vedere con una videocamera munita di visore notturno coprire l'illuminatore della propria videocamera e si noterà la luce provenire dagli altri telecamere perché? perché il visore notturno non è altro che la possibilità per la telecamera di vedere l'infrarosso i nostri occhi non vedono l'infrarosso quindi teoricamente noi non vediamo le aree video sorvegliate di notte ma una telecamera che lo vede sì se sulla telecamera che noi stiamo osservando c'è un illuminatore noi vediamo l'illuminatore attraverso una telecamera tutti i telefonini anzi per essere corretti la maggior parte delle telecamere e dei telefonini possono scoprire le telecamere col visore notturno dove guarda? cosa osserva più spesso? per capire dove guarda esattamente basta mettersi sotto la telecamera e da sotto osservare dove punta l'obiettivo e si può vedere il movimento della telecamera interna che si vede qui e capire quali sono gli obiettivi interessanti profilando le telecamere si profila chi sta dietro le telecamere quindi scopriamo le loro abitudini dove sono? secondo l'idea del panottico dovrebbero essere al centro delle piazze invece no spesso sono sui posti di passaggio come questa quando capita per esempio che vi incanalano in un punto di passaggio e c'è la telecamera davanti quella è fatta per vedere il volto di chi passa e adesso vedremo la schietatura di qualche telecamera quindi profileremo dove guardano e qui vediamo dove stanno guardando in questo caso io posso vedere un ottico dei negozi e altre cose sopra c'è un ambulatorio di uno studio medico voglio sperare che la telecamera non guardi lì qui vediamo l'antenna segue il puntamento e arriva un altro sistema come questo dove ci sono altre antenne e altre telecamere poi comincio a mettere tutto sulla mappa e faccio il reverse del sistema ci riconoscono ci sono alcuni algoritmi di riconoscimento facciale che tracciano i punti chiave del volto e calcolando le distanze possono fare l'hash confrontando altri punti di altre facce è possibile vedere quale faccia viene visualizzata e riconoscerla è una tecnologia molto vecchia che è disponibile anche sulle macchine fotografiche la domanda è ci seguono? certamente ci sono alcuni programmi un pochino più complessi ma tuttavia non troppo che sono in grado di identificare le persone e seguirle vedete? questo è un codice questo è un codice e così via per tutte le persone ma cosa possono fare? tracciano i nostri percorsi? questo è l'esempio del tracciamento di una persona qui vediamo un uomo che si muove in un posto e dopo vediamo riprodotto in una grafica 3D lo spostamento del soggetto analizzano i nostri comportamenti? certo qui vediamo un programma che con una mappina sulla destra ci fa vedere esattamente cosa sta facendo l'uomo in base alle azioni che fa capisce che cosa viene fatto si possono attivare dei sensori virtuali e capire se l'uomo ha posato qualcosa sul tavolo o qualcosa del genere qui vediamo un altro tracciamento e qui vediamo il programma che viene impiegato all'opera questa roba rossa è lo sguardo della telecamera questi sono vari sensori e qui stanno programmando le aree interessate qui si vede la telecamera e quello che viene riconosciuto ogni tanto riconosce anche qualcosa che non c'entra per fortuna però vedete ha riconosciuto per esempio in modo molto semplice una persona che entra o qui riconosce qualcuno che si muove e lo segue e magari poi si collega a un'altra telecamera per continuare l'inseguimento questo è il programma correva l'anno 1998 guardate quanto è vecchio questo computer 1998 pensate cosa possono fare oggi questo è un altro esempio di inseguimento automatico con due telecamere di una persona provate a pensare tutto quello che fate seguito registrato non si parla più della videosorveglianza che registra mette su un astro e dopo vai a vedere che cosa è successo qui forse un domani o forse già oggi tra un po' avremo dei tabulati dove sei stato cosa hai fatto per quanto tempo quanto meno occupano di dati questi rispetto a una foto cosa comporta la percezione umana è limitata c'è un ordine naturale delle cose questa è la percezione di una persona con una percezione aumentata si possono sapere tutti i dati delle persone esattamente cosa fanno come vivono chi frequentano cosa comporta che qualche persona può avere più percezione degli altri e purtroppo per la natura umana questo è male perché l'uomo può ammirare a controllare il mondo in una situazione del genere il business l'industria il potere gli interessi privati magari la politica questa è una situazione di insicurezza quindi all'aumentare del controllo eccessivo non aumenta la sicurezza a un certo punto scende è tutto legale no ma questi signori hanno la password in conflitto di interessi chi controlla le spie siamo in guerra fredda civile chi è il nemico chi è il bersaglio siamo noi e adesso le peggiori telecamere di Venezia rialto fantasma sono delle piccole telecamerine nascoste vicino al ponte di rialto muro questa telecamera filma sui bar zooma molto sui bar san zaccaria monumento questa guarda soltanto l'uscita dell'automezzo è una don potrebbe guardare dappertutto santa margherita questa vecchia telecamera puntava sulla finestra oggi è stata cambiata ma la nuova telecamera è piena d'acqua e non funziona più queste sono le altre telecamere di santa margherita senza cartello di informativa caparanoia guardate la telecamerissima che hanno montato qua in alto e sotto ci sono anche queste e questa è un'altra super telecamera sopra la ctv e questa è un'altra super telecamera che adesso vedremo esattamente cosa sono UAB piazzale Roma regione Veneto senza informativa maritima questa di solito si mette a guardare le belle ragazze che escono dallo UAB ci siamo messi sotto a guardare cosa guardano quali sono gli obiettivi più graditi cosa guardano più spesso san marco fantasma altre telecamere nascosto san giacomo dell'orio quando questo è finito su un ottico li ha nascosti dentro una scatola ma noi sappiamo che sono ancora lì santa maria del giglio piazzale Roma eccetera e questa è un'altra super telecamere ma cosa sono queste super telecamere l'erberia dove si ritrovano i giovani veneziani calle manganer nascosta dentro una scatola palazzo ducale non fate la pipì in una calle altrimenti questa è proprio all'altezza giusta impresa funebre vediamo quanto siamo belli da morti frezzeria boldù san marco calle cappello dove guarda quella telecamera che cos'è quel riflesso dove punta l'obiettivo una vetrina ma ha senso tutto questo perché perché passando sul lato destro siccome lì c'è una stazione della polizia gli sbirri non si fanno a filmare dalla loro stessa telecamera e questo è molto panopticon risultato violano la nostra privacy documentano i nostri spostamenti sono inutili è una mania di persecuzione al contrario e adesso vedremo qualcosa che non è un gioco di aumenta in reality ma si tratta del sistema argos un sistema di videosorveglianza 2.0 che utilizza l'intelligenza artificiale le contravenzioni 2.0 sono un sistema per fare soldi violano la nostra privacy io mi sono permesso di rinominarlo argos panoptes come colui che tutto vede per la supervisione e la sicurezza che se facciamo un cambiamento con la neolingua diventa il controllo del traffico acqua e la riduzione del motondoso in canale grande peccato che non c'è un sensore che misuri l'acqua teoricamente queste telecamere osservano le imbarcazioni e ne tracciano gli spostamenti e le inviano le autorità sui palmari come i più moderni sistemi di videosorveglianza ispirati al film panic room ecco come funziona il sistema argos la centrale operativa collegata in internet attenzione questo sistema non è perfetto ecco come è fatta una cella del sistema queste sono le slide di presentazione utilizzano gli stessi algoritmi della robotica questo è come fatto il sistema di copertura ognuna di quelle telecamere ne ha altre tre dentro che uniscono le immagini tra loro e uniscono tra telecamera e telecamera il canale grande è un'immagine unica senza coni d'ombra e le imbarcazioni vengono riconosciute automaticamente e c'è anche una telecamera aggiuntiva per gli incontri ravvicinati ecco cosa vede argos ci vede così questa è la copertura del canale grande doveva essere il progetto originale provate a immaginare quanto è grande l'area videosorvegliata e questo è il palmare pocket argos quindi se volete fare le multe comprate questo palmare ecco come è fatta una telecamera che io ho chiamato argos sono tre telecamere dom più una telecamera raggiuntiva e l'antenna wifi per collegare il segnale video ecco come è fatta da vicino sono telecamere doppie una per il giorno una per la notte questo è uno zoom molto ravvicinato delle telecamere argos se questa è una telecamera del sistema argos con le sue tre visuali più la telecamera per incontri ravvicinati questa è una telecamera ancora più potente la telecamera del sistema idra non a caso il mostro da nove teste quattro telecamere termiche quattro telecamere dom più un'altra telecamera per gli incontri ravvicinati e questa si trova su un canale più grande il canale della giudecca e spesso sono montate con un'esagerazione perché sotto ci sono due misere telecamere dom che fanno la loro osservazione a 360 gradi visto che questa qua arriva a vedere a 300 metri di distanza potevano anche risparmiarsi le due telecamere sfigate sotto a questo punto comunque qui vediamo anche quella di prima la famosa H paranoia la super telecamera del sistema idra e qui ne vediamo altre questa è l'evoluzione delle telecamere del sistema argos fino ad arrivare ad idra anatomia di una telecamera idra come vedete sono montata su un palo e qui abbiamo delle telecamere dom questa volta obiettivo singolo questa è la telecamera termica che è in grado di vedere col calore quindi probabilmente vi inseguono col calore del motore e poi sotto hanno messo una telecamera più potente perché una ne ha tre e l'altra ne ha quattro perché questa dovendo vedere più distante cambiando lo zoom si restringe la visuale quindi per creare la visuale a 360 totale hanno dovuto incollare più immagini quindi da tre sono passate a quattro telecamere non c'è un sensore che misura il motondoso bastava un comune autovelox quanti soldi sono stati sprecati argos aia questo è quello che si può vedere in internet con qualche modifica sul sito del sistema argos possiamo tenere la navigazione in tempo reale di tutte le imbarcazioni ma c'è di più andiamo a vedere una zona che è molto più interessante cosa vedono le telecamere del motondoso il movimento dell'acqua il movimento delle barche che cos'è quel punto rosso è a terra non è in acqua allora o ha rilevato una barca per qualche motivo che è a terra o non lo so adesso ve lo faccio rivedere questa potrebbe essere un'automobile no perché se no si schianta va decisamente fuoristrada è un pedone quindi la cosa divertente sotto certi punti di vista è che la telecamera per il motondoso che il sito dichiara osservare qui sta osservando qui allora questa telecamera si trova qui qui ce n'è un'altra questa non può vedere qui perché c'è un palazzo non può è più alto il palazzo quindi qui c'è una telecamera che sta vedendo questo e i dati sono disponibili sul sito del sistema Argos questo è un altro esempio ma Argos è solo sull'acqua no siamo già al secondo step questa è una telecamera per il motondoso del sistema Argos a terra per vedere il motondoso dell'asfalto naturalmente il motondoso dell'asfalto evidentemente è un problema molto grave questo è un 360 della zona strada che cosa sono questi illuminatori notturni per vedere meglio di notte eccoli di notte la telecamera è accesa funziona e si trova all'isola nuova del tronchetto sopra la sede della ctv questa è una ripresa notturna e si vede la telecamera accesa ma ce n'è un'altra questa l'hanno montata a 90 gradi rispetto al canale ed è proprio quella dove vedevamo passare qui le auto e le persone ecco la mappa della zona una telecamera l'altra telecamera queste filmano a terra e questa è tranquillamente sul sito regolare che filma in acqua ah ma cavolo non ci avevo pensato le barche vanno anche sull'asfalto è ovvio quelle sono telecamere che sono state montate per vedere il motondoso dell'asfalto maledetta barca della Kuwait e adesso vediamo i bag del sistema Argos li ho segnati in giallo i bag un punto per ogni barca giusto? beh non direi qui c'è qualcosa che non torna appare scompare qui passi da una telecamera all'altra il punto è dietro se mi riferisco non ho il punto stabile come faccio a capire qual è la velocità della barca qui le onde sono in contravenzione ma c'è qualcosa che non torna oh ma che cos'è diventano un punto solo uno due tre ah ma certo bisogna fare più soldi con le multe quindi bisogna incrementare le multe bisogna fare le doppie triple multiple se no come facciamo a fare cassa è ovvio no? siamo in crisi economica guarda questo quante ne fa chissà quante multe le sono arrivate ma questa è spettacolare qui poi abbiamo un remix video direttamente dal sistema Argos che non si capisce cosa fa il segnale qui raddoppi passando da una telecamera all'altra c'è il 3x2 no? e qui il punto medio tra due barche e qua mi vai a fare la multa su una barca ferma parcheggiata perché quella dall'altra parte si muove cioè ci sono dai punti doppie ma è pieno di bag non ne azzecca una maledizione una ne trovasse una qua succede l'assurdo questa prende non prende non si capisce c'è un po' lì questi che si raddoppiano eccetera 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 chi è Antonio? sui sorgenti di questa pagina sito del sistema Argos andando con lo strumento super elaborato trova nel sorgente si può trovare Antonio si trova una porzione di codice commentato si trovano molte porzioni di codici commentate che possono essere tranquillamente attivate lo vedete? marker posizione clicchi e appare la scritta a casa di Antonio con delle coordinate GPS modifichiamo il file attiviamo un po' di funzioni leviamo un po' di commenti dopo averlo salvato naturalmente e vediamo che cosa succede Antonio chi è? cos'è? perché? una volta eseguito il file localmente quindi senza perpetrare attacchi di qualche genere mi allontano da Venezia vado via cerco Antonio eccolo casa di Antonio dov'è? posso zoomare fino ad arrivare proprio a casa di Antonio il canal grande situazione in tempo reale casa di Antonio chi è Antonio? perché lì? cosa ci fa? è al corrente di essere sul sito del sistema Argos? ma c'è di più? ci siamo anche noi tutti noi su quel link che potete vedere in alto si può scaricare un file XML con le coordinate di tutti coordinate GPS numeri di serie univoci delle imbarcazioni numero della telecamera che ci ha visto e velocità che merda queste sono informazioni confidenziali non dovrebbero essere disponibili in internet quindi quando noi navighiamo sul canal grande abbiamo probabilmente un numero di serie univoco con il nostro numero ce ne andiamo in giro per il canale e qualcuno potrebbe associare quel numero a noi e vedere dove siamo esattamente ma non è necessario il numero basta vedere da dove partono le coordinate del posto barca oppure dove si ferma e procedere a ritroso sulla cella numero 1 potremmo osservare per esempio gli spostamenti della polizia adesso io penso se pianifico una rapina alle poste di rialto mi metto lì a osservare il sito del sistema Argos posso fare un'applicazione che quando partono dalla stazione a piazzale Roma io so che strada stanno facendo e prendo i canali migliori per perpetrare per esempio la mia ipotetica rapina le coordinate di tutti sono disponibili non ci sono i cartelli di informativa il sistema non è affidabile chi è Antonio? che cazzo ci fa sul sito del sistema Argos? traduzione vi hanno convinto ad essere intercettati continuamente come dei criminali o dei terroristi senza bisogno di un magistrato che indaga su di voi non c'è più la presuzione di innocenza ma di colpevolezza prima ti indagano come se tu fossi un colpevole poi se non hanno fatto nulla si tengono le informazioni su di te elettori obbedite a questo nuovo sistema di videosorveglianza del futuro e a questo che arriveremo? interessi economici potere, abusi appalto grande fratello cambiamo i concetti della mappa e noi siamo contenti di questa merda traduzione un grande fratello che si maschera col controllo dell'informazione e noi in un panopticon con le nostre telecamere è qui che vogliamo arrivare lentamente senza renderci conto dei pericoli suboli attenzione ragazzi allora noi siamo spaventati dal grande fratello paghiamo la polizia perché dica al grande fratello di osservarci e con l'informazione controllata siamo anche contenti guardate che belli occhioni quindi le telecamere ci considerano dei ladri noi siamo contenti di essere considerati dei ladri di avere paura perché qualcuno controlla l'informazione dove porta questo cortocircuito insomma sicurezza ci sono state riduzioni della sicurezza meno risorse per oltre 3 miliardi in 3 anni ci sarà una riduzione totale da 40.000 unità a 15.000 sono in polizia poi qualche tempo fa c'era il 70% dei mezzi che utilizzavano in riparazioni i criminali sono liberi di agire in Italia l'informazione può essere controllata paura uguale controllo e noi vogliamo le telecamere cosa c'entra le telecamere sicurezza uguale controllo ecco la nuova parola della neolingua il pacchetto precedente di sicurezza ai numeri prevedeva in maggior parte le telecamere quindi abbiamo Trieste 400.000 euro per le telecamere Gorizia 120.000 euro per le telecamere Udine 600.000 euro per le telecamere Pordenone 540.000 euro per le telecamere avete presente le cifre 1.660.000 euro di telecamere sono nelle città principali pari a tot litri di benzina la misura è di un anno fa quindi ormai sarà cambiata pari a un sacco di chilometri oppure telecamere pensate a quanti pattugliamenti si potrebbero fare pari a 224 volte virgola 7 il giro del mondo con tutte le altre pattuglie di tutte le telecamere e tutti gli altri costi oppure telecamere costi telecamera modello Von V 617.70 euro mediamente queste sono le telecamere che sono state montate a Padova per esempio Padova ha chiesto 9.176 euro cada una per l'installazione e tutto il resto a Venezia siamo arrivati a 64.000 dai a Venezia ci sono almeno 464 telecamere schedate ma ce ne sono molte altre perché chiaramente l'informazione è parziale se ne trovano sempre sono state richieste 5.2 milioni di euro per installarne altre 51 di cui poi altre 30 celle Argos quindi siamo alla pazzia considerando che il 90% delle telecamere è senza informativa denunciate le telecamere illegali Argos dovevano essere 14 ce ne sono 13 in canale grande perché una non funziona più l'hanno tolta e poi ci sono 3 telecamere al tronchetto di cui 2 verso terra a misurare il moto andoso dell'asfalto evidentemente quando passano le auto fanno un po' di onde nell'asfalto abbiamo visto Idra dovevano essere 11 e la prima veniva montata agli ex cantieri Knov no sono 10 sono costate 1,4 milioni di euro solo quelle 10 ne sono state installate 9 poi dopo un contratto da altri 2 milioni di euro ne hanno montata un'altra l'ultima proprio sopra agli ex cantieri Knov circa 6 mesi dopo l'articolo sul giornale che diceva ah Idra la prima telecamera verrà montata sopra agli ex cantieri Knov ma mi prendete per il culo e poi c'è questo sistema CF dove ci sono queste telecamerine sopra i tetti dei palazzi che sono così collegate via wifi in giro per tutta Venezia attraversano tutta la laguna non è una questione di sicurezza ma una questione di business magna magna e di controllo telecamere uguale in sicurezza meno privacy meno libertà più illegalità più controllo più spese più dittatura più intercettazioni e sì alla fine sono intercettazioni ambientali lotta al terrorismo o tecnocontrollo beh memorizzare i dati di tutti non è mettersi contro i terroristi ma è mettersi contro tutti quindi terrorismo il crimine sono anche una password per la libera violazione dei diritti civili cioè strumentalizzare può servire per ottenere consenso l'opinione pubblica e attuare cose abbastanza strane quindi una volta c'era il terrorista che puntava all'obiettivo si usava il terrorista come password ma poi il terrorista non ha più fatto bombe quindi hanno pensato di usare copyright il delinquente comune quindi si sono sostituiti due o tre elementi della neolingua e abbiamo ottenuto le stesse paure sostanzialmente censura controllo dell'informazione come avviene l'informazione passa per un filtro quello interessante sui politici condannati e tutto il resto viene depositato in un apposito storage la paura strumentalizzata può essere utilizzata per ottenere sicurezza cioè sicurezza guardare è sicurezza non direi agire è sicurezza la televisione è un mezzo di comunicazione sensonico ovvero tu puoi solo guardare ciò che ti viene trasmesso questo crea una gerarchia piramide dell'informazione e dell'intrattenimento dove in cima c'è la casta e sotto ci sono i nostri giornali e la nostra televisione il cervello umano decide in base all'informazione del suo ambiente se l'ambiente è contaminato anche il cervello è contaminato e non è in grado di sapere la verità o di reagire contro chi si trova in cima alla piramide quando la casta fa qualcosa di scorretto internet ovviamente è strutturata in modo diverso tu puoi avere più informazioni e non è controllabile come nell'altra situazione e questo è scomodo perché è abituato a trovarsi in cima alle piramidi e soprattutto perché non possiede più il controllo dell'informazione e della cultura cioè della mappa degli elementi che abbiamo visto prima censura esistono varie forme di censura sappiamo che in Italia hanno provato anche la censura a livello DNS ma ne fanno di diverso tipo agiscono sempre dove noi dobbiamo collegarci perché il resto del mondo non è sempre d'accordo sulle solite dinamiche di censura questo però potrebbe trasformare non la rete cioè potrebbe trasformare la rete non in un panotticon ma nel relitto di un panotticon un panotticon non funzionante teoria del complotto per chi piace potere monopoli controllo chi sta sopra potere su chi sta sotto piramidalità dittature manipolazioni interessi economici produttori di multimedia distributori di multimedia a senso unico ottengono strumentalizzano per il consenso dell'opinione pubblica con questi concetti gioco sicuro paura violenza bambini diritti tossici di produzione per creare mezzi di controllo fisico filtrare censurare osservare centralizzare qualcosa che non è centralizzato per prendere il controllo avere monopolio su cosa sulla rete dove noi ci colleghiamo per ottenere una rete non neutrale sì sì credeteci l'importante è essere convinti scopo finale questi sopravvivono in modo forzato questi che cosa fanno producono i VIP cioè un personaggio che porta le scarpe fighe tu porterai le scarpe fighe perché il tuo elemento nella mappa dei concetti che abbiamo visto all'inizio è stato cambiato quindi io che produco scarpe produco anche un personaggio molto bello che tu tieni come idolo e comprerai le mie scarpe per esempio o altre cose del genere tutto quello che comporta vabbè le dittature vivono sull'ignoranza eccetera sopravvivenza forzata della piramidalità e ci rimetterà qualche interesse economico insomma perché usare il controllo fisico perché nessuno vuole stare al controllo mentale e nessuno vuole questa cosa quindi devi farlo un po' alla volta piano piano finché la gente non se ne accorge e non è che porta a un elemento ben pianificato porta a un insieme di cose che poi non è detto che stia in piedi perché si parla del controllo della rete si tratta di ottenere mantenere il monopolio della produzione culturale da parte di pochi miliardari può tenere grandissimo numero di informazioni su tutti gli utenti collegati eliminando la privacy con vari sistemi tu puoi seguire la navigazione degli utenti perché se tu segui la navigazione è come se tu seguissi una persona si tratta di centralizzare qualcosa di decentralizzato ottenere il controllo dell'informazione se l'ambiente è contaminato e il cervello non ha le informazioni tu li metti dentro quello che vuoi e il cervello reagisce in linea di massima come decidi tu quali sono i nemici della rete? non soltanto i blog la videorete i siti user generated content ma soprattutto la rete di persone collegate ai terminali perché agisce e comunica si informa più velocemente torniamo al panotticon il grande fratello ci osserva è l'unica fonte di informazioni al centro della torre ma noi siamo nelle celle del panotticon ogni tanto ci è capitato di dire la nostra telefonata è intercettata c'è qualcosa che ci osserva? siamo sicuri che qui non abbiano installato dei microfoni o delle telecamere nascoste? panotticon c'è un bag il panotticon è debole se ne era accorto anche Umberto Eco se tutta la gente si mettesse a osservare il grande fratello dritto negli occhi il grande fratello avrebbe la certezza o l'incertezza di essere sorvegliato e si potrebbe ottenere potere mentale sulla mente del grande fratello come non è mai stato fatto prima creando così l'anopticon l'opposto del panopticon quindi grande fratello noi ti stiamo guardando infatti abbiamo creato un motore di ricerca che trova i video censurati su youtube nella sezione giornalismo e cronaca e controlla la censura abbiamo scoperto la censura su youtube tutto quello che viene censurato viene aggiornato in tempo reale ogni sei ore tutte le keywords ogni cosa e i dati sono archiviati e consultabili abbiamo fatto la mappa della censura cosa viene censurato più spesso non sappiamo dirvi perché ma sappiamo che manca ecco il grafico della censura dei primi mesi dell'anno scorso a parte questo down di youtube qui si vede quando provavano a fare la censura di massa qui c'erano i primi articoli di giornali dove parlavano della censura su youtube questo è la quantità di video e questa è la censura talvolta la gente risponde abbastanza velocemente scoperti più di 6.000 video censurati tantissimi argomenti che teoricamente non possiamo mettere su youtube senza avere problemi ecco qualche tags ma ce ne sono molte altre queste sono le tambelli alcuni video cancellati le troverete di tutti i tipi c'è molta censura politica c'è molta censura religiosa ovviamente non teniamo in considerazione musica porno e altre cose solo informazione politici che parlano gente che si esprime spezzoni di telegiornale eccetera eccetera quali tag non possiamo usare tante stiamo calcolando il danno quant'è la censura misuriamola il reverse del sistema di videosorveglianza ha prodotto il progetto anopticon mappa delle telecamere misura denuncia a livello di controllo urbano infatti il big brother viaver è una mappa interattiva che consente di monitorare il grande fratello di inserire le telecamere di vedere la scheratura delle telecamere per ogni telecamera qui vediamo per esempio la schiera di una telecamera sulla mappa l'area video sorvegliata della telecamera e tutte le sue informazioni con anche il permalink disponibile e anche sono anche commentabili utilizzare la mappa è molto semplice perché in pochi clic possiamo inserire esattamente dove si trova la telecamera e che cosa guarda oltre agli obiettivi più graditi è ciò che ci interessa più spesso misuriamo il controllo quanto corrisponde l'area video sorvegliata delle telecamere in rapporto all'area video sorvegliata della città ecco qualche dato su Venezia telecamere schiadate 464 telecamera Venezia centro storico 412 rapporto area video sorvegliata totale senza la sovrapposizione cioè punto già osservato 26,5% della città rapporto dell'area video sorvegliata totale considerando anche le aree sovrapposte 35,45% è una misura altissima vuol dire che il 35% della città è area video sorvegliata vuol dire che c'è un elemento grande come un terzo della città grosso presente telecamere per chilometro quadrato centro storico 6,626 più di New York telecamere con informativa 72 celle Argos 17 celle Argos con informativa 0 celle Hydra 10 idra con informativa tutte perché hanno messo i cartelli Argos rivolte a terra 2 numero oggetti schedati telecamere d'antenne 504 oggetti area video sorvegliata unica sono 8 numero massimo delle aree video sorvegliate sovrapposte 6 cioè vuol dire che arrivano fino nello stesso punto a sovrapporre 6 aree video sorvegliate cioè 6 telecamere che guardano nello stesso punto ma siamo fuori di testa percentuali di telecamere a singolo raggio 69% percentuali di telecamere dome con area Argos Hydra quelle che ruotano 30% date aggiornate al 30 del 2 del 2010 quindi in realtà sono un po' cambiati ma più o meno siamo lì mappa del controllo qui vediamo in rosso le aree video sorvegliate più grandi tanto per renderci conto della dimensione di quello che stiamo parlando queste sono le aree video sorvegliate sovrapposte grandi sulla mappa di Venezia e questo è un render delle aree video sorvegliate in 3D sulla città così possiamo renderci conto a parte l'altezza della dimensione del problema questa è Venezia dall'alto sì ho forse zoomato un po' troppo ma poi si vede un po' più distante questa cosa che vedete è il canale della Giudecca che è praticamente un'immagine unica cioè vuol dire che non ci sono quasi a parte quel punto lì dei coni d'ombra e qui vengono riconosciute tutte le imbarcazioni quella S che vedevate prima è il canal grande questa è Venezia dall'alto questa è la zona di San Marco questa è la zona del dettaglio dall'interno di uno dei palazzi è possibile vedere questo e questa è sempre Venezia quindi le aree video sorvegliate grandi sono parecchie vedetevi conto di quanto è grande l'area video sorvegliate ma il grande fratello è stato schedato e denunciato abbiamo inviato al garante per la protezione dei dati personali tutte le schede di tutte le telecamere di Venezia con tutte le informazioni c'è un database delle telecamere che è stato inviato come denuncia al garante per la protezione dei dati personali primi risultati abbiamo sensibilizzato sul problema della video sorveglianza è stato creato un nuovo provvedimento sulla video sorveglianza che limita la video sorveglianza intelligente quindi i programmi che avete visto prima del 98 scordateveli almeno legalmente ci sono dei piccoli problemi limiti sui sistemi di video sorveglianza intelligenti speriamo che vadano avanti drastico aumento dei cartelli di informativa sì quelli si sono visti a parire dappertutto indagini misuriamo il grande fratello misuriamo il livello di controllo misuriamo il livello di censura misuriamo il livello di libertà dove penderà l'ago della bilancia verso la dittatura e la democrazia lo possono fare in tanti misuriamo il livello di dittatura e vediamo se esiste in quali forme questo è il progetto Anopticon grande fratello noi ti stiamo guardando e questo è tutto per il momento e questi sono quasi tutti i link perché ci sono dieci città che stanno mappando le aree video sorvegliate quindi qui non ci sono ancora tutti perché sono aggiunti la nuova arrivata è arrivata una settimana fa ed è Mestrino in provincia di Padova quindi probabilmente prossimamente manderemo al garante anche le denunce delle altre città che comunque stiamo già calcolando le aree video sorvegliate delle altre città e sono molto minori di Venezia Venezia è una cosa incredibile e la cosa più grande la fanno naturalmente Argos e Hydra che creano un problema per la privacy futura perché se la parola strada e la parola canale vengono sostituiti è un problema perché se abbiamo telecamere a 360 così potenti che ci riconoscono con i programmi che abbiamo visto prima dove andremo a finire? Allora veramente ci sarà il grande fratello che abbiamo visto? Allora veramente la direzione sarà quella? Forse qualche cosa di quello che abbiamo visto qui che abbiamo parlato di complotti di cose potrebbe realizzarsi? Ma la direzione che stiamo prendendo non è buona e la strumentalizzazione della paura in qualche modo c'è quindi attenzione Domande? È ovvio Per me va bene tu considera che io tendo a vedere l'aspetto legale della cosa e muovermi in modo corretto comincerò comincerò a usare il jammer comincerò comincerai ad usare il jammer quando non le toglieranno quando sono illegali però effettivamente c'è da considerare che ci sono anche altri problemi che sono emersi perché il discorso dei soldi sprecati di questi milioni di euro per le telecamere Venezia ha speso più soldi in telecamere di quattro città abbiamo visto Padova che ha spesi due milioni gli altri ne hanno spesi sotto il milione per città più grossa insomma quindi c'è qualcosa che non torna forse le hanno messe d'oro c'è anche il discorso che le telecamerine low cost che si comprano a un gigahertz è sufficiente comprare un kit identico e andare in giro per la città e intercettare le telecamere perché non sono nemmeno crittate fortunatamente con il nuovo provvedimento le garanti a stabilità avete un anno di tempo per crittarle altrimenti i ladri vi vedono cosa fate in casa comunque sì il jammer è sempre possibile sono tutte wifi anche queste qua la maggior parte sono collegate su wifi addirittura due telecamere distante 10 metri l'una dall'altra hanno il wifi tira un cavo un wifi vabbè e poi si vede anche il modo di mettere le cose che è sprecato perché su un pontile metti una telecamera che osserva il pontile poi mettono una full 360 e dopo mettono un'altra full 360 ma quella che hanno messo sul pontile è una dual night della Mobotix che costa quasi 1000 euro le altre due costano altrettanto me ne metti due che sono a full 360 più una super metti una full 360 che fai prima spendi meno e ottieni lo stesso risultato no devi spendere più quindi tutto altre domande? vabbè allora se nessuna altre domande io levo le tende grazie 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 grazie